La tana del frerito Ciao Broderigno Ciao Amore Il Kazoo Ciao Ciao Kazoo Ciao Kazoo come stai? Bene bene Sono molto emozionato perché non faccio una diretta da Tre anni credo E non mi aspettavo di entrare così diretto Però bene Voi come state? Tutto a posto Tutto a posto Kazoo si tira avanti Adesso ci manca solo Andrea del 1988 Ah Don Ambrosio mi gli ho mandato il link Sono un idiota E poi cominciamo piano piano ad adentrarci un attimo Nella vicenda Tu che dici? Mamma mia Kazoo ci sono un sacco di cose di cui parlare Tu lo sai vero? Sì Allora visto che l'hai annunciata in un modo molto Tipo è un fatto assurdo È un fatto eclatante Ci tengo a dire che È un episodio che Va al di là dello spettacolo Cioè magari Molti l'hanno strumentalizzata Molti l'hanno raccontata In modo enfatizzato Però è un fatto che mi è accaduto È accaduto davvero Al di là del personaggio È accaduto a Cosimo Corrado A me E quindi È ancora pesante per me Parlarne ora Ok? No non siamo qua Io non penso che Simone Abbia idea di Nei di strumentalizzare Ma soprattutto Non penso che dobbiamo fare Un one more time Due Cioè nel senso Se tu dovessi riraccontare tutto quanto Sarebbe solo un farti rivivere Una situazione Che è stato anche Secondo me difficile Ritirare fuori con Luca Però Jody Sono d'accordo con quello che Con quello che hai detto Che comunque Stare qua a riraccontare tutto Usando magari anche le stesse parole Ovviamente ci avrebbero due clip Di due posti diversi Che narrano la stessa cosa Però comunque Ho letto anche in chat Che moltissime Moltissime delle persone connesse Non sanno Appunto Niente di questo tipo Di questa narrazione Magari senza soffermarci Proprio stare mezz'ora Sui dettagli E raccontarla precisamente Io comunque Una decina di minuti Dedicata al racconto La dedicherei Justamente Così Se sei d'accordo anche tu Cosimo Sì 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 No se sono entrato qui per questo È perché voglio parlarne Esatto Esatto Quindi Allora Praticamente Due mesetti fa Io sono andato a New York Perché Boh Volevo andare a scoprire Il nuovo mondo Ero andato lì Con una mentalità aperta Per Innanzitutto Imparare meglio la lingua E poi per registrare Dei contenuti Perché ho un canale Su YouTube Che si chiama Cosimo Corrado Dove mi vado a fare Esperienze di base Cioè Farci un'esperienza E quello che mi va di registrare Lo registro E lo racconto Quindi diciamo Era una vacanza E in più Se poteva capitare Avrei anche registrato Tutto era partito Bene Diciamo Ci tengo a specificare Che in quel periodo Specifico Della mia vita Che è due mesi fa Fumavo anche Fumavo le canne E lì In America È legale Fumare le canne Dimmi Solo una roba Quanti anni avevi Cioè Quanti anni hai 21 Sono 2001 Ok Ok Solo questo dettaglio Scusami Quindi Dobbiamo trasferirci in America Quindi Per fumare No Assolutamente Come fai a pensare Che io l'abbia detto Solo per quello Vabbè Settembre Appena arrivato Arrivo il pomeriggio Io alloggiavo nel New Jersey E Il giorno dopo Mi sono svegliato Circa le 5 5 e mezza del mattino E Dal New Jersey Poi sono andato A Manhattan Che per chi non lo sapesse Qui si trova il New Jersey Poi c'è il fiume Dall'altra parte C'è Manhattan C'è New York Volevo andare a Vedere i palazzoni Volevo andare a vedere Il suo nuovo mondo E Sono stato lì Tutta la giornata Tutto bene Tutto a posto Avevo comprato anche Dell'erba Da Da fumare Perché appunto In quel periodo Fumavo le canne E Fino ad arrivare Alla sera Avevo camminato Tutta la giornata Fino ad arrivare Alla sera Che ero andato Al Central Park Avevo camminato Un bel po' di tempo Ma Ci sta Giri Guardi Ci sta che cammini a piedi Fino a quando Era sera tardi Sono uscito Dal Central Park E sono andato Non mi ricordo Come si chiama Quel posto Comunque praticamente Dove ci sono tutti Quei palazzoni Con le pubblicità Cioè dove i rapper Pubblicizzano l'album Praticamente Times Square Times Square Esatto Times Square Però era tardi Avevo fumato Due canne Anche qualcosa Più di due canne Però non immaginate Cioè Non immaginate Le canne italiane Immaginate Canne Americane Cioè bomboloni Grossi Perché non li chiudevo io Me li avevano chiusi Bomboloni grossi Soltanto di erba E È brutto Lo so Però L'ho fatto Non è che brutto Complimenti Per non essere finito In coma Cioè Non è brutto Aspetta Non siamo ancora arrivati No perché Sto già cominciando Sto già cominciando A intuire Come andrà la storia Se non c'è di mezzo Un rapimento alieno Ti svegli in Madagascar Con quelle robe lì Cioè nel senso Se mi lasci parlare No no Se mi lasci parlare Se mi lasci parlare Ci mancherebbe Prego Prego Praticamente Avevo fumato E Diciamo Non è che Stavo male Però Non ero lucido In quel momento Ecco Cioè magari Guardavo in generale Non avevo la situazione Sott'occhio Cioè non riuscivo più A prendere una Scelta razionale Diciamo E ho conosciuto La persona sbagliata Avevo iniziato A parlare con una persona Partiamo dal presupposto Che io ero lì Ed ero con l'obiettivo Di parlare con tutti Cioè stavo con una Mentalità aperta Potevi Potevi vivere Nell'ultimo piano Del palazzo più alto Di New York O essere Il Barbone Non me ne frega Per me Sei una persona Io con te parlo E a posto Anzi Alimenti di più Il fatto di parlare Il fatto di parlare Un'altra lingua Fatto sta Che ho conosciuto La persona sbagliata E mi ha detto Fumiamoci questa canna Insieme Io credevo Fossi una canna Ma in realtà Era Una canna Con all'interno Non la marijuana Non la marijuana Che ricordo Lì è legale Ma conteneva Una sostanza chimica Allucinogena Che si chiama K2 Che praticamente Ha gli stessi principi Attivi Contiene Gli stessi principi Attivi Del THC Cioè di quello Che è contenuto Nella marijuana Ma in realtà È un allucinogeno E io ho assunto Sta sostanza Credendo fosse una canna Ma in realtà Ho assunto un allucinogeno E non sapevo Di aver assunto Un allucinogeno E quindi mi sono ritrovato Lì Al Times Square Però immaginate Alle 4 del mattino Dove per strada Al massimo Potevi trovare Degli homeless Cioè si svuota Da solo Col tempo Stava salendo Questo effetto Io non sapevo Di aver fumato Questo allucinogeno Ma ero Completamente allucinato Quindi tutta la realtà Che vedevo A me sembrava finta Cioè Io Qualsiasi cosa Guardavo Venivano rispecchiati I miei demoni E attenzione Venivano davvero Rispecchiati I miei demoni Cioè Tutti dentro di noi Abbiamo delle paure No? Chi più Chi meno Tutti abbiamo delle paure Questa sostanza qui Riflette All'esterno Guardando degli oggetti Proprio le tue paure Quindi io guardavo Un palazzo E lo associavo A una mia paura Ma una mia paura reale Che ho dentro di me Guardavo Il Una macchina E l'associavo A una mia paura Ero completamente alterato Per colpa di questa sostanza Però Attenzione Un conto è Assumere la sostanza Consapevole di aver assunto La sostanza E quindi Tu dici Ok Vedo la realtà È modificata Ma Sono fatto Io non sapevo Di aver assunto Questa sostanza Che mi è stata data E quindi E quindi Ho tutto Solo Di notte A Manhattan Con i miei demoni Cioè Questo era Questo è Quello che mi è successo Andre è un po' come se vedi Su un palazzo Riflessa Maria Sofia Vabbè Vabbè Diciamo Se vedi Femmico La roba Vedi i tuoi demoni Dopo Vedi tante cose Sparmentose Voglio dire Vedi Lashlein Presidente del Consiglio Ti arriva il commercialista Che ti fanno Dalle cartelle esattoriali Tutte cose Che cos'è che è successo dopo Raccontaci proprio La cosa Che Perché tu comunque Per chi non lo sapesse Kazoo Quando è che è successa Questa cosa qua Due mesi fa Due mesi fa Due mesi fa È uscita la notizia Su tutti i giornali in Italia Che appunto Kazoo Questo youtuber Eccetera Così la notizia Parlava di questo Youtuber italiano Era sparito Nessuno sapeva dov'era I suoi genitori Non sapevano dov'era Dov'era I suoi amici Non sapevano dov'era E per quattro giorni Se non sbaglio Quattro o cinque giorni Nessuno Sì quattro giorni Quattro giorni Non so di preciso Quanti giorni Perché proprio io Con la cognizione dei giorni E del tempo Proprio faccio stifo Però All'incirca quattro giorni Per quattro giorni Nessuno Sapeva dove fosse C'erano articoli sul giornale E tutti erano preoccupati Per lui Ci ricordiamo i video Anche di Capitan Blazer Su TikTok Disperato Perché comunque Letteralmente Un tuo amico Che è andato in America E per quattro giorni Non si sa più niente di lui Chiaramente Arrivano le preoccupazioni Cosa è successo Che cosa hai fatto In questi quattro giorni Prima che inizia il racconto Volevo solo chiedere una cosa a Kazoo Perché nei TikTok Di Cap Eccetera Si parlava anche delle storie Che aveva messo Kazoo Prima di scomparire Le storie che hai messo Inquadrando i palazzi Eccetera Erano sotto gli effetti Del K2 Aspetta L'ultime storie che hai messo su Ah no Sì ho capito Il TikTok Intendi Non le storie Sì Sì TikTok scusate No non ero No 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 Non era sotto l'effetto del K2 Ma scusa Io ho una domanda Perché sto cercando di fare La ricostruzione Ma sto tizio Che ti ha dato la cannabis Tagliata con l'intonaco Ma tu lo conoscevi Oppure Cioè era un tuo conoscente O era uno che hai incontrato così E ti ha detto No No l'avevo incontrato Al Times Square lì Ci avevo iniziato a parlare Parlavamo Cioè Chiacchieravamo così L'avevo beccato per strada E dopo una decina di minuti Mi ha detto Fumiamoci sta canna insieme Ok Sei stato Sei stato Ma attenzione Per quanto Per quanto sia stato Un atto incosciente Cioè io non metto Io mi assumo Tutta la responsabilità E tutta la colpa Di quello che mi è successo Perché onestamente Avrei potuto rifiutare Ed è la cosa giusta da fare Però la cosa che mi ha dato Fiducia in quel momento È stato il fatto che lui L'ha chiusa davanti a me Dopo che l'ha chiusa Ha iniziato a fumare lui Poi dopo l'ha passata a me Quindi questo mi ha dato Tanta fiducia Nei suoi confronti E poi ricordiamo Che avevo già fumato Altre due canne prima Quindi non ero lucido Al cento per cento In ogni caso Questo Non è Cioè Non è neanche una Cioè non ci sono scuse Ho sbagliato Fine E poi mi sono preso Le mie Ma qua nessuno è qua Per giudicare le situazioni Non siamo un tribunale Sì sì Esatto È solo per dire Che è stato un atto Un po' Un po' molto incosciente Perché da uno che non sai chi è Eh sì Cosa è successo Questi quattro giorni? O sarà che magari Io vengo da Bologna Sono tutti quanti mezzi drogati Quindi ormai Ho paura A toccare anche la gente Però Allora Ti spiego dopo Che cosa è successo Praticamente Come vi avevo detto Ero Mi ero ritrovato Catapultato In una mia realtà Perché tutto quello Che vedevo Venivano rispecchiati Come se fossero I miei demoni Come se fossero Le mie paure E mi sembrava Tutto finto Cioè di base Io qualsiasi cosa Guardavo Mi sembrava finto Non so se avete mai visto Tipo il film Truman Show Sì Eh io mi sentivo Tipo in una cosa del genere Cioè credevo che le persone Che passavano Fossero degli attori Che qualsiasi persona Fosse lì Erano attori pagati E io Ero il burattino Della situazione Praticamente Ma tu avevi uno stato Di ansia e panico O eri preoccupato E per curiosità Pura curiosità Io ero traumatizzato Ero traumatizzato Infatti la prima cosa Che ho provato a fare È stato Chiamare È stato Prima Prendere l'app di Uber Ho detto Io me ne devo andare da qui Subito Aprivo l'app di Uber E non andava Ho aperto un'altra app Che si chiama Lyft Tipo Uber Mi diceva di collegare la carta Provavo a collegare la carta Non mi accettava la carta Perché Provavo ad inserire La data della carta Ma in realtà In America Va messa al contrario Quindi ho provato Ad inserirla Per tre volte La data E non mi hanno tolto La possibilità Di inserire la carta A quel punto Subito ho chiamato Monica Che è la mamma di Samu L'amministratrice Della nostra società E le ho detto Monica mi devi chiamare Un taxi Però attenzione Chiamami un taxi Non deve provenire Da New York Da Manhattan Ma deve provenire Dal New Jersey Cioè dove avevo L'appartamento Fallo venire dal New Jersey Perché Perché qui a New York È tutto corrotto Quindi io pensavo Anche il taxi È corrotto Cioè Ero in un loop brutto Che a raccontarlo ora Ma tu immagina Tu immagina il telefono Quella che ti ha risposto Ho detto Ma che cazzo sta dicendo E no Lei pensava Ma in che senso Ma lei sapeva Che ti facevi le canne Cosa? Lei sapeva Che ti facevi le canne No Almeno Sì ma vabbè Ma questo non è Una reazione da canna Cioè nel senso Farsi le canne Non ti fa venire La lucina Farsi le canne Può farti venire O un po' di paranoia Perché ti becca la polizia Ma in quel caso Lui non poteva avercela Perché era legale Quindi la paranoia Non è vero Ma farti la canna Non ti fa pensare Andrea io ho il motivo Perché ho smesso con le canne Perché ho avuto Un bad trip Allucinogeno Però sono illegali Ragazzi Io non so cosa vi fumate voi Io che non l'ho mai fatto Uso mai Vi posso dire Che comunque Che non fa quella roba lì Cioè non ti fa effetti Allucinogeni Allora che cazzo Mi sono fumato La canna Non credo Faccio effetti allucinogeni No Cioè ti può rincoglionire un po' Puoi essere allegro Sorridente Adormentarti Venirti fame Magari paranoia Perché ti becca la polizia Ma nel suo caso Non c'è Ma vedere delle cose Le canne non danno effetti Allucinogeni Però attenzione Però attenzione Aspetta Andrea Ci tengo a precisare una cosa Il problema principale Delle canne Soprattutto in Italia Dove la sostanza Se la vuoi fumare Te la devi procurare illegalmente E che non puoi mai sapere Cosa c'è all'interno Assolutamente Magari compri un qualcosa Che viene spacciato Che te la vendono come erba Ma che ne sai all'interno Cosa ti mettono Per aumentare la massa Certo Quello assolutamente E di fatti Io non ho idea Nel centro a Bologna Di la gente Ti dice Oh c'ho il cacco Le dentro trovi L'amianto L'intonache Il polonio L'uranio Però se ti fumi La marijuana La pianta Proprio la pianta Non il cacco Lì Nel senso Quell'effetto lì Non dà effetti allucinogeni A meno che non sia tagliata Con dell'arsenico Però Vabbè Comunque Vabbè Ci sta Io Ero svolvolato Don Ambrogio Lei che sicuramente È un esperto Ci dica Che effetto ha avuto La sua prima volta Guarda Io non ho mai Neanche fumato Le sigarette Quindi Di questo Non so dirti Ecco Però ho visto Tanti ragazzi Che sono rimasti Bruciati Permanentemente Con danni celebrali Permanenti Semplicemente Con Facendosi le canne Ecco Effettivamente Ci sono canne Anche mal tagliate Ma Direi che Da questa esperienza A prescindere Dopo da Ho visto anche io La tua Nel podcast Che raccontavi Che hai avuto Anche una sorta Di Risveglio interiore Non è quello che ci può stare Ma direi che La prima esperienza Da farne tesoro Nella tua vicenda Che hai raccontato È che Non bisogna fare Usi di droghe Per nessun motivo Al mondo Posso fare una domanda? Di come è vero? Questo è il motivo principale Per cui sono qui E sto raccontando questa cosa Perché questo può essere Potenzialmente Uno degli effetti Che ti può causare la droga Per quanto il mio esempio È tanto estremo Ma non sto dicendo Per quanto sconsiglio Di fumare le canne Non sto dicendo Se ti fumi le canne Ti ritrovi a New York A bagare Per quattro giorni Però La cosa che dico è Se ti fumi le canne Potenzialmente Puoi essere più propenso Apri una porta Sei più propenso Ad accedere anche Ad altre sostanze Che possono danneggiare di più Quindi è meglio Evitare tutto dal principio Con un discorso Che non affronterei Onestamente Ma si può tranquillamente affrontare Perché alla fine Non è un crimine Ognuno ha il diritto Di dire quello che vuole Io sostengo Che personalmente Il limite che una persona Si impone Nell'utilizzo Di determinate sostanze Dipende dalla persona Perché se tu Passi a fare Delle droghe pesante Perché tu già sei Propenso a farlo Una persona Normale Con un equilibrio Mentale E psicofisico Stabile O provare a farsi Un cannone ogni tanto Ma non si farà mai D'eroina Perché è una persona Stabile Se la persona È instabile La canna Che transiziona All'eroina Non è per la canna Perché lui è instabile È come l'alcol C'è quello che va in cirrusipati Che muore E quello che si fa Un bicchierino di bianco Quando mangia la frittura È lo stesso principio Quindi dipende Dipende da persona a persona Sicuramente Le probabilità aumentano Però Se inizi ad assumere Una sostanza stupefacente È molto più probabile Che tu Voglia provare anche altro Per avere un effetto Ancora più alto Non è per la canna Non è per la canna Non è per la canna Anche facendo un esempio Sull'alcol Stiamo un po' Su una cosa semplice E legale Diciamo Cioè se io sono abituato A bere alcol Lo bevo in maniera moderata Bene Non c'è nessun problema Ma se A un certo punto Nella mia vita Mi succede un fatto Molto negativo Io vengo Veramente abbattuto Sono depresso Le mie problematiche So che quella cosa Lì mi può dare Una sorta di Diciamo Refugio Un amico Sì aiuto Non è un aiuto È un falso aiuto Ecco è un'illusione Quella che ti dà Mi dà una sorta Di annebbiamento Della mente Ecco io che sono comunque Una persona Abituata già A consumarlo Mi sarà molto più facile Abusarne Ecco Sempre che Una persona non è Non sempre tutti siamo Abbastanza maturi Anche perché c'è una questione Di età C'è un minorenne Che è abituato a bere Non ha la maturità necessaria Per dire Non posso utilizzarlo Come soluzione Ai miei problemi Perché non è la soluzione Ai miei problemi Ma non ha la maturità Anche di esperienza di vita Per poterlo capire Così facilmente Dal momento che magari Non sempre ci sono Dei genitori presenti Che ti danno Una bella sberla Nel coppino Se fai una cosa del genere Sì questo Questo è vero Però se una persona Comincia a abusare di arco Perché ha dei problemi Lo fa perché È una persona Che non è in grado Di regolarsi Non tanto per l'arco Se non è l'arco È un'altra cosa Se non è l'arco Sì sì Però Però Andrea Tu stai partendo Sempre dal presupposto Cioè Io sto facendo Questo discorso Qui Siamo in una Live di Grambaud Dove gli spettatori Principalmente Sono ragazzi Immagino di 16 17 anni Drogatevi bambini Che quindi possono Vivere quotidianamente Un mondo del genere Cioè è molto probabile Che se un 17enne Esce Almeno uno Nella comitiva Si fuma le canne Quindi secondo me È giusto sensibilizzare Nel modo giusto Tu Andrea Mi stai facendo Sempre degli esempi Che per quanto Possono essere giusti E te li posso appoggiare Mi stai facendo Degli esempi Di una persona Adulta E matura Guardiamola anche Dal punto di vista Di un 17enne Guardiamola anche Dal punto di vista Di un 20enne Non travisare Non voglio far passare Il messaggio Che bambini Fatevi cannoni Perché tanto Sticatti Ci mancherebbe altro Perché io Personalmente Lo dico In tutta serenità Se io avessi un figlio Che a 17 anni Mi dice Papà mi faccio le canne E lui dà tante Di quelle legnate Che rimane meno Mato a vita Ci tengo a specificarla No sì Sto cazzo Tu non ti fai le canne A 17 anni Fine Quindi però Non voglio A 19 sì però A 19 Sei abbastanza grande Da parte Se viva a casa sua Sì Finché aveva a casa mia Fa il caffa Che dico io Quindi non è quel Il discorso Però Però Eh sì ragazzi È così Però Neanche far passare Il messaggio Che le canne Siano una roba Che ti ammazza Perché dipende La cannabis Non è una droga Che ti distrugge A meno che Non te ne fumi 10 al giorno Per 40 anni E in quel caso Sicuramente ha degli effetti collaterali Che è ovvio Perché ci sono ancora Dei studi in corso Però ragazzi La cannabis Ti fai una canna A settimana Non muore nessuno Ragazzi Infatti Infatti Attenzione Nel discorso Che dicevo È Apri La porra Per l'utilizzo Di altre sostanze Non sto dicendo Se ti fumi la canna Assumi altre sostanze Automaticamente Oppure se ti fumi la canna Automaticamente Ti bruci Se ti fumi la canna Sicuramente Apri la porta E aumentano inevitabilmente Le probabilità Che tu possa assumere Altre sostanze Perché parlando onestamente Ti parlo del mio specifico caso E di quello Che mi è successo Se io non avessi fumato Mai le canne In vita mia Automaticamente Non avrei mai Neanche conosciuto Questa persona qui Ok Il concetto Se posso Sì Non è che hai scelto Di fumarti il K2 Non è che l'hai scelto Ma ha scelto Di fumarsi qualcosa Qualsiasi cosa Davanti Capito Se lui fa le canne Poi vede La cugaina Ragazzi Sono stato a New York Per ritrovare me stesso E uno mi fosse venuto là E mi aveva detto Vuoi farti una canna Io che non mi faccio le canne Non mi sarei fumato Né una canna di erba E né una canna di finta erba Che in realtà era K2 Perché pensi Che uno che si fa le canne Accetti qualsiasi cosa Offerta dagli altri Scusami No Sto dicendo che nel caso Non sto dicendo questo Però sto dicendo il contrario Sto dicendo che Quelli che invece Non si fanno le canne Di sicuro Non succede questa cosa Ma ragazzi Questo discorso È inapplicabile Perché allora Stai con una campana di vetro Non uscire di casa E non corri nessun pericolo È come dire Che lui Se fosse andato a New York Non sarebbe successo Secondo me Secondo me Secondo me il concetto È che se tu prendi Cento persone E quelle che Quelle che Fanno uso di droghe pesanti È altamente più probabile Che magari Abbiano fatto anche uso Di marijuana prima Piuttosto che Non abbiano fatto uso Di niente Ok allora Di conseguenza Allora dovrebbe Proibire l'alcol Perché No ma su quello Sono d'accordo È più probabile Che diventi un alcolizzato Certo Allora rendiamo illegale L'alcol No no ma certo Ma su quello Sono d'accordo con te Perché di Dio Infatti noi stiamo qui Per dargli un contiglio Ma io sono Per la legalizzazione Adesso andremo in lupo Un discorso del genere Non c'è capo No no infatti 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 Facciamo così Sentiamo prima Perché voglio che Anche la chat Tutti i presenti Vogliono che ascoltino Proprio la storia Così poi Almeno analizziamo Tutte le varie cose Perché avrei un sacco Di domande anche Quindi cerchiamo di non perdere Il tempo Perché vorrei sentire la storia Kazoo prego Questi quattro giorni Di sparizione Cos'è successo Esatto Fatto sta Che io mi sono ritrovato Lì che erano A quel punto Credo bole Quattro e mezza Cinque del mattino Comunque Stava iniziando a fare Giorno Era notte Era buio Stava per sorgere il sole Ho provato a chiamare Monica Per prendermi sto taxi Lei non riusciva A chiamare il taxi Ma perché non comprendeva La situazione Cioè immagina Che io la chiamo E gli dico Chiamami un taxi Che mi deve portare Da Manhattan Al New Jersey Ma fallo partire Dal New Jersey Cioè gli chiedevo Cose strane Lei diceva Ma tutto a posto Tutto ok Cioè capiva Che c'era qualcosa Che non andava Quindi Uber Non mi ha potuto aiutare Lyft Non mi ha potuto aiutare Monica Per chiamare il taxi Non mi ha potuto aiutare Aspetta Stai saltando tantissimo Con la connessione Non ti sentiamo più Aspetta Era arrivato Non mi ha potuto aiutare Sì vai 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 Era arrivato A Non mi ha potuto aiutare Poi si ha dato la connessione Dicevo Monica Neanche mi ha potuto aiutare Per chiamare il taxi E quindi a quel punto Mi sono ritrovato Io a New York Da solo Con i miei demoni Perché vi ricordo Che qualsiasi cosa Guardassi A causa di questa droga Che avevo assunto E vi ricordo Io non sapevo Di aver assunto Questa droga Allucinogena Era il riflesso Delle mie paure Quindi a quel punto Mi sono ritrovato Io con i miei demoni Ero completamente traumatizzato E Per portarvela in breve Avevo provato a chiamare Anche mio nonno Avevo provato a chiamare Anche degli amici Cioè provavo a cercare aiuto E loro E loro non ti avevano risposto Ho provato ad inviare Un messaggio a nonno Piangendo in lacrime Gli mandavo dei messaggi vocali Piangendo in lacrime Nonno venitemi ad aiutare Venitemi ad aiutare Così Ho provato a chiedere aiuto Infatti viene chiamato Anche demons Però solitamente Una sostanza del genere Ha un effetto di 18-20 ore Adesso tu ti stierai chiedendo Perché però Sto travaglio È durato tre giorni È durato quattro giorni Vai Dicci Perché Io ero fermamente Convinto di quello Perché Se io in quel momento Vedo i miei demoni E credo di stare bene Come posso mettere in dubbio Ciò che avevo visto Cioè Ritornando al discorso di prima Un conto è assumere una sostanza Consapevole del fatto Di aver assunto la sostanza E tu dici Ok Sono allucinato Vedo il mondo modificato Ma è per colpa della droga Io avevo assunto Sta sostanza Non sapevo di aver assunto Sta sostanza Quindi tutto quello che vedevo Lo davo per vero Perché io credevo di stare bene Cioè Io in quel momento Però te l'hai comunque fatto le canne prima Cioè Adesso non è che dici Eri in ufficio Mai causare un effetto del genere Cioè Tu non hai idea Allo stato in cui ero Cioè L'allucinazione è così tanto forte Che dai davvero per vero Quello che stai vedendo Cioè Io vedevo Quando l'altro Era davvero finto Vedevo la persona Credevo fosse davvero Un attore pagato Ed ero fermamente convinto Di questo Cioè Provati Se proprio sei curioso Su questo Prova di informarti Online Sugli effetti Che possono causare Gli allucinogeni Cioè ti ritrovi proprio Su una realtà alternativa Se non hai il controllo Del tuo cervello La tua realtà È completamente alterata Non hai la capacità Di capire Che stai avendo Un effetto psicologico Come può essere Per la cannabis Se ti fai una cannabis Cioè capire Di essere in quello stato Tu lo sai Cioè sei consapevole Del fatto che sei in quello stato Dici sono così Ma lo so perché Mantieni una pseudolucinità Con gli allucinogeni Non capisci un cazzo Cioè non capisci niente Sei convinto proprio Che quello che vedi È reale Perché non è più Il controllo Della tua coscienza Cioè sei sfasato Martina? No Volevo sapere Volevo sapere Se per caso riesci Niente Vabbè Se riesci a farci Un esempio Di quello che vedevi Se vuoi Se puoi Cioè anche per capire io Perché voglio capire Più o meno Ma un esempio Cioè non ti immaginare Che vedevo Super Mario Oppure i draghetti Che volavano Eh per questo te lo sto parlando No vedevo la realtà Così com'era Ma ti sentivi un po' in un sogno? Era come l'interfettavo Che cambiava Hai avuto il dubbio Che fossi tipo in un sogno? No In un sogno no Perché io effettivamente Sentivo che me la stavo vivendo Questa situazione Avevo paura Il pensiero costante Che avevo Rispondendo alla domanda Che ha fatto Martina È l'interpretazione Che va a cambiare Cioè l'interpretazione Della realtà Cambia Il pensiero Che ne consegue Cioè noi in quanto Essere umani Siamo fatti Più o meno Celebralmente Allo stesso modo Quindi con gli occhi Vediamo la realtà E più o meno Che poi in realtà A tutti cambia un pochettino La interpretiamo Allo stesso modo Quando assumi una sostanza Che va ad alterare La tua psiche La interpreti In un altro modo E per quanto io Con i miei occhi Vedessi la stessa cosa Tutte le informazioni Venivano processate In un modo diverso Questo in sostanza Non è che vedevo i draghi Vedevo il palazzo Come l'avresti visto tu Solo che io Il palazzo Lo associavo A una mia paura È difficilissimo Spiegare i trip Dall'ucinogene Cioè è difficilissimo A parole Sei limitato Spiegarlo Ci sono quelli Che dicono Di sentire i colori Non vuol dire un cazzo Capito Cioè devi viverla Perché vivi Ma quindi Cosimo Cazzo In quel momento lì Tu hai fumato questa cosa Non trovavi questo taxi Che cosa hai fatto? A quel punto Ritornando al discorso Lo so di prima Il pensiero Che facevo Costantemente Che io Tu che mi hai chiesto Credevi di stare in un sogno No io credevo di stare Nella realtà E credevo di essere stato Tipo boigottato Cioè Credevo Cioè pensavo M'hanno messo Oddio Sto bevendo un effetto Un effetto Laggando Sì Piccolo lag Sì Sono qui a New York Ci sono i miei demoni Me ne vado da qui Chi chiami Don Ambrogio Ti aiuta lui Con i demoni No Ha detto chi Vabbè Andiamo avanti No fra l'altro Dovrei anche andare No Domani sono anche a Milano Fra l'altro Quindi No veramente Molto presto Eh sì Sì Domani sono anche a Milano Ah Bene Però fare un podcast Però non posso ancora Dirlo perché Sotto embargo Ah beh Lo scopriremo Solo vivendo Buonanotte Buonanotte Vi saluto Grazie Grazie In bocca al lupo Cosimo In bocca al lupo Ciao Bene Vai Cazzo Vai avanti Don Ambrogio Scriciato Per il film Esorcismo di Annabel Domani Nel cinema Vabbè No ma io vorrei Sto chiedere la cosa Vai Poi non interrompiamo Perché Finiamo Diamo Mi racconto Mi racconto Ci spieghi Tecnicamente Cos'è successo In questi Tre giorni Di Dopo l'effetto Tre quattro giorni Dopo l'effetto Ma è semplice Siamo quasi giunti al termine Ho camminato Ok Ho sempre camminato Mi hanno fermato Tre volte Cosa? Forest Gump Hai camminato per quattro giorni No La differenza Questa è che Forest Gump Correva Io camminavo Cioè ero costante Ma camminando Ma scusa la cosa Adesso la domanda Sorge spontanea Scusami Quell'effetto Non può durare Quattro giorni Hai avuto l'impressione Che fosse durato Quattro giorni Nella tua testa O è durato No 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 In realtà Non sono stati Quattro giorni Che ho camminato Saranno stati circa Due giorni e mezzo Perché nel frattempo Le uniche pause Che avevo Era quando Mi fermavano Perché la polizia Mi fermava Mi fermava la polizia Mi portava in ospedale Perché capivano Che effettivamente Non Perché com'è che andavi in giro Tu? Perché è importante Specificare Io camminavo Scalzo Nudo Soltanto con i pantaloni E perché Lo interpretavo Come mi devo liberare Di qualsiasi cosa Cioè la mia Interpretazione mentale Era mi devo liberare Di qualsiasi cosa Io mi sotto Ho preso il telefono E l'ho buttato iPhone 14 pro Ho buttato Questo telefono qui L'avevo buttato E sono stato fortunato Che mi è stato restituito L'hanno portato alla polizia E me l'hanno restituito L'iPhone 12 Che usavo come telecamera Secondaria Per i video A New York Sì Era proprio Un mondo parallelo Questo qua Nel senso Cioè Hanno Il bracciale d'oro Preso Ho buttato Avevo un bracciale d'oro E l'ho buttato La polizia mi fermava Mi portava in ospedale Mi trattenevano Per boh Un'ora Due ore in ospedale L'ospedale La prima volta L'ospedale Mi ha palesemente detto Noi non siamo la polizia Tu puoi uscire Mi davano Dei nuovi vestiti Cioè addirittura Nel secondo ospedale Mi hanno dato anche Delle scarpe Io uscivo fuori Mi toglievo le scarpe Scusami Non voglio essere bello Ducato Ma mi fa ridere il lupo In ospedale Tieni la maglia Vaffa il culo Riportano Tieni la maglia Vaffa il culo Fuori una pila di maglie Ma perché Io per tutto il tempo Stavo con la concezione Che Anche l'ospedale Facesse parte del male Cioè Anche l'ospedale Fosse un demone Ma figa Ma io dico Ma nei momenti Tu avrai dormito Anche immagino in giro Oppure hai dormito Solo all'ospedale Ho dormito solo all'ospedale Cioè Mi sono riposato In ospedale Ma di base Ho camminato sempre Io ricordo di aver dormito Soltanto una volta Cioè Una volta che ti addormenti Ti svegli Cioè Non riesci Non ti sei ripigliato Un attimo Ma Anche se L'effetto della droga Può scendere Drasticamente Ti ripeto Cioè Ti ripeto Ritornando al discorso Che ti ho fatto Che non sapevi Di essere stato drogato Mettiamola proprio Dal tuo punto di vista Mettiamola dal tuo punto di vista Hai assunto una droga E non sai di avere assunto una droga Ti ritrovi a New York Vedi la realtà Tutto quello che vedi Ti sembra finto Dopo anche un giorno Se ti ricordi Cioè Dopo anche un giorno Anche se hai svanito l'effetto Però Tu Ricordi che hai visto Tutte le cose Ti sembravano finte E ti sembrava tutto Tipo hackerato Tu lo dai per vero O dai per finto Quello che hai visto Se non sai di aver assunto la droga Ma allora C'è un stato alterato di coscienza Se mi succede Se mi succede adesso Che non ho fatto letteralmente niente Sono qua in live Così comincio a vedere queste robe Probabilmente sì Se ho passato una giornata A fumarmi canne E ho preso una canna Che mi sono fumato Con uno sconosciuto Probabilmente Mi farei una domanda Ma secondo me Ma secondo me aveva ancora Lo stato alterato di coscienza Eh sì può essere Non era ancora tornato lucido Che poteva ragionare concretamente Su quello che aveva vissuto È difficile Cioè secondo me Era ancora alterato Parzialmente Beh forse è scioccato Quattro giorni a camminare A camminare per dove Cioè dove Dritto Esatto No io stavo con la concezione Cammino dritto Se mi trovo Qui rispondendo alla domanda Che hanno posto tanti Cammino dritto Se mi trovo davanti a un bivio Vado a destra Perché Per come la interpretavo io La destra Era La zona safe La Dove non c'era il peccato La zona pulita Sinistra era la parte cattiva E quindi io Procedevo lì Questa Questa associazione Questa associazione No a me Invece Questa associazione mentale È vera Perché in italiano Così come in inglese Sinistro Incidente Sei una persona sinistra Sei una persona oscura Malvagia E invece in inglese Destra Vuol dire anche giusto Esatto Quindi ragazzi Votate la Meloni No 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 Dai Ma cosa fai Vabbè E La domanda che ti faccio Quindi Mi penso è fuori Quindi la domanda che ti faccio Cazzo Tu per questi quattro giorni Letteralmente Non hai mai mangiato Immagino No Soltanto Ho bevuto soltanto due volte Cioè tu praticamente Ma non avevo Non avevo neanche il desiderio Di mangiare Cioè io non avevo Minimamente fame Non so se quando eri in ospedale Mi hanno fatto Delle trebo Mi hanno fatto qualcosa Vabbè Vorrei fatto la pipì Ma la cacca Ma che cazzo Ma questo vedeva Truman Show La cacca Vabbè 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 Ma una cosa Ma una cosa Ma negli Stati Uniti Non c'è la roba che devi pagare l'ospedale Tipo Sono fortunato Infatti in molte biblioteche Cioè per quanto non avessi più i documenti Perché aveva abbandonato tutto Io alla polizia All'ambulanza Lasciavo sempre le mie informazioni Mi chiedevano il numero Di una persona fidata Ho sempre lasciato il numero di mamma Con il prefisso italiano Perché io a parlare Ero lucido Ma non ti hai chiesto Tu non hai chiesto Io riuscivo a parlare tranquillamente Ho sempre lasciato il numero Non hanno mai chiamato Ma non hai mai chiesto Voglio parlare con i miei La mia famiglia E l'ho fatto Ho provato a chiamare mamma Non riuscivo a chiamarla Cioè mi diceva tipo Utente occupato Cioè ho provato a chiamare Con il telefono Della ragazza in ambulanza E tipo Chiamata fallita Cosa del genere Non mi faceva chiamare Forse non avevi messo il prefisso Sai in quello stato No 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 L'ho messo il prefisso Forse non aveva le chiamate incluse Per l'estero Cosa? Può essere Forse non aveva le chiamate incluse Per l'estero Sai quelle robe là Ma Ecco però Cosimo Questa roba qua Non me la ricordo Non so se l'avevi detta nel podcast Ma A chi Chi ha dato la notizia Della tua Del tuo ritrovamento Alla tua famiglia Del mio ritrovamento L'ha data Un detective Che ha aiutato La mia famiglia Nelle indagini Ok Quindi il detective Aveva chiamato Zia E tutto questo è successo Proprio mentre mamma Lanciava la notizia Chi l'ha visto? Sì c'è la clip Di tua mamma Che riceve la notizia Cioè che È surreale Guardi quella Se io da esterno Guardo quella clip Dico minchia è finta Cioè È assurda È assurda come cosa Mentre mamma Parlava con chi l'ha visto C'erano le mie zie E altri parenti Nella camera Che sono state chiamate Da un detective Che è italo Italo-americano Che ha aiutato La mia famiglia Nelle indagini E aveva dato la notizia Cosimo è stato ritrovato Ed è in un ospedale Ma sto detective Cioè Da dove è stato fuori Chi l'ha ingaggiato La polizia È un detective Che abbiamo Che hanno Trovato Perché era tipo Un amico di famiglia Cioè lui viveva a Salerno E poi si è trasferito In America A Salerno Che è la mia città Cazzo ti chiedo A parte che Nel podcast La scena Con cui ero più Attento ai dettagli Con cui l'hai raccontata È la scena Quella di quando Ti sei spogliato Dentro il ruscello Ti sei messo Dentro i rovi Perché appunto La domanda che volevo farti è Quando sei stato ritrovato È uscito quel tiktok Di Capitan Blazer Dove sei tu Che dici Tutto sorridente Con questo occhio nero Dici appunto Eh tutto Tu in quel momento lì Perché si vede Dietro Capitan Blazer Che piange No? E molti hanno fatto Ovviamente le proprie teorie Perché tu effettivamente Sembrai molto strano In quel tiktok Perché dici Non ero lucido In quel momento Non eri lucido In quel momento Ok? Perché Nel frattempo In ospedale Mi hanno continuato A riempire di medicinali Cioè io ricordo Che io mi opponevo Mi facevano le siringhe Non so cosa mi abbiano dato Mi avranno dato roba Per attenuare Attenuanti Non so cosa mi abbiano dato E per quanto possa essere medicina Ricordiamo che la medicina È comunque droga di base No? Certo E quindi Ero comunque alterato Era ancora convinto Era ancora convinto Della corruzione Del sistema di New York Sì Infatti questo trauma L'ho superato Poi il giorno dopo Cioè mio papà mi ha portato a New York Mi ha portato a Manhattan E mi ha detto Guarda Non è finto E in quattro giorni Ho avuto un trauma E fortunatamente Ho superato anche il trauma Sono stato fortunato E l'occhio? Cosa? E l'occhio? L'occhio L'occhio nero Me lo sono procurato Perché alla fine di tutto Mi sono ritrovato In un bosco Completamente al buio Mentre camminavo nel bosco Ho sbattuto Contro un tronco Ma Ho sbattuto qui E il trauma Man mano è sceso Anche da questa parte Nell'occhio Però tu non sentivi il dolore Cioè eri Il dolore all'occhio Minchia se l'ho sentito Però tipo i piedi I piedi Erano distrutti Cioè Io sono ritornato in Italia Hai delle foto? Hai delle foto? No non ho foto Ma buttate il telefono Voi chi è che Io su questo telefono qui Ho però delle registrazioni Cioè ho delle registrazioni Io avevo registrato Prima che buttassi tutto Avevo fatto delle registrazioni Ero traumatizzato E dicevo Raga Attenzione New York è finta Manhattan è corrotta Cioè perché Io credevo fosse finta E volevo Parlo a sapere a tutti Pensa se le avessi Cosa Mi viene da ridere Perché eri letteralmente A Gotham City È corrotta Mi sono immaginato Vestito da Batman Che sconfiggevi la criminalità In preda a una rivela Ma io stavo con quella cosa Di dire Come cazzo è possibile Che nessuno se ne ha accorto Finora Lo so e lo devo far sapere Cioè E ho queste registrazioni Quindi Che si vede Che sono palesemente Traumatizzato E ancora non le ho riviste Tutte Le avevo riviste Poi in America Con mio fratello Ma onestamente Non ho ancora il coraggio Di rivederle Ah non le hai proprio riviste Ma non le pubblicherò Mai nella vita Le ho riviste In parte Con mio fratello Alcune Dove si vede Che sono palesemente Traumatizzato E io parlavo E parlavo anche Delle mie paure Però adesso Non ho ancora il coraggio Di affrontare Questa situazione qui Ma ci sta Deve essere stata Una situazione Molto poco piacevole Da vivere Anche perché Le situazioni di panico Se non hai la coscienza Lucidità per gestirle Ti causano terrore e ansia Cioè È più o meno il motivo Per cui anticamente La gente si spaventava Cioè Non riusciva ad affrontare Razionalmente Una situazione di paura E andavi in ansia In paranoia Cioè Ti causava del panico È un miracolo Che tu non sia finito Dall'analista Adesso io non voglio Farmi i cazzi tuoi Per amore del cielo Massima riservatezza Però Una situazione Come l'hai vissuta tu È roba che si va Dallo psicologo Perché No ma Lo posso dire apertamente Perché non me ne frega Cioè Sono arrivato fino a questo punto Dove vi ho parlato Di tutta la mia storia Vi parlo anche del post Di come me la sto vivendo ora Io in questo momento Mi sento bene Perché questa esperienza qui Mi ha fatto rinascere Cioè Mi sento una nuova persona Non fumo più l'erba Fumavo anche le sigarette Cioè Io fumo da quando sono piccolo Fumavo le sigarette Da quando sono piccolo Non l'avevo mai detto online Non fumo neanche più le sigarette Cioè Mi sento Veramente libero Mi sento una nuova persona In questo momento Perché Ho vissuto Un'esperienza Che mi ha fatto toccare il fondo Ma ho proprio raschiato il fondo E adesso sto risalendo Mi sto facendo influenzare Tanto dalla mia famiglia Mi sto riprendendo un po' Tutti i miei valori Cioè Al di là di questa esperienza A New York Che è stato soltanto Il momento finale Che mi ha fatto toccare il fondo Io venivo già da una situazione Personale Molto difficile Perché mi ero trasferito Da qualche mese A Milano Non me la vivevo bene Stavo vivendo Un periodo di depressione E Usavo anche Le canne Come rifugio Per questa depressione E quindi È come se avessi Scaricato tutto Lì Con quell'esperienza In America Che mi ha fatto toccare il fondo E adesso sto risalendo L'importante è che stai bene Poi il resto Una domanda Io Tecnica più che altro Non ho ben capito Chiaro Il passaggio Del fatto di C'è il detective Che dice Ci sono tante droghe Che girano a New York Bla 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 Tra cui anche il K2 Tu hai la certezza matematica Tipo Cazzo Con un esame Tossicologico Che sia K2 O è una supposizione Basata sulla media Delle droghe Che ci sono a New York No no La certezza Non ce l'ho Perché non ho mai fatto Non ho mai fatto il Cioè non ho mai fatto Poi l'esame L'avrevo Lo dovevo fare l'esame Però era soltanto Per una curiosità personale Ma Ci metto la mano Sul fuoco Che è il K2 O almeno Un simil K2 Una roba di quel tipo Era comunque Una sostanza lucidante Ma per gli effetti Che ti ha dato Probabilmente Ipotizzato fosse quello Ma ti faccio Ti faccio questa domanda Kazoo Tu ripensando Tutto quello che è successo In questo momento Non so come dire Un po' hai paura Di te stesso Non so come metterla giù Paura di me stesso Non so dire Minchia Magari Non so se nella tua testa Dici Perché io penso a me E dico Boh io non credo Che arriverei mai A fare una cosa del genere Tu pensi che Prima di fare questa cosa Avresti pensato No io non farei mai Una cosa del genere E ora come ti vivi Questa Ma come fa In che senso Non ho capito la tua domanda Cioè io dico Che farebbe una cosa del genere Nel senso Hai paura Che non riesci A controllare Le tue Il tuo comportamento Hai paura Di cadere di nuovo In una situazione simile Per via del fatto Che avendolo fatto una volta Non riesci a controllare Le tue azioni In casi Determinati Di problematiche Ma razionalmente Io ti dico Razionalmente Devi avere la paura Di ricascarci Questo non lo metto in dubbio Perché Comunque la tentazione Può essere dietro l'angolo Però ricordiamo che io Non l'ho assunta Razionalmente Cioè nel senso Se si presenta uno Da me E mi dice Vuoi fumare Il K2 Cioè vuoi assumere Una sostanza lucinogena Io sia ora Che due mesi fa Avrei detto di no Chiaro Ok Cioè non è che io Sono andato lì Con l'intenzione Lucinogena La sostanza lucinogena Credendo fosse Una semplice canna Per quanto per me In questo momento Sia sbagliato Anche fumare le canne Però questo qui Un punto di vista soggettivo Abbiamo già affrontato Ma non c'è nulla di male Guarda che puoi pensarlo Non è un crimine Al giorno d'ora Ti sembra un crimine Dire più Ma sì Perché l'ho detto Andrea Perché dopo rientriamo Di nuovo in quel loop Non è un crimine Se tu la pensi così È un tuo pensiero Cioè questo c'è di male Jody No Però io ho capito Perché Cosimo Ha detto così Perché effettivamente Soprattutto negli ultimi anni Se ti azzardi A dire Che Che fare le canne Secondo te è sbagliato Sei tipo come Se dici che Credi nella monogamia E non vuoi Non sei poligamo Cioè capisci Cioè È come se È come se Fossi un Uno che ha Una mente troppo chiusa No? Se dici Cazzo ti faccio questa domanda Nel momento in cui Eri in ospedale No? Immagino che un minimo Comunque avessi La concezione del tempo Cioè tu sapevi che comunque Sei poligono Stavi facendo una cosa Molto particolare Cioè erano magari giorni Che andavi in giro Nudo Avevi lanciato il telefono Mentre in ospedale Non so Pensavi tipo a dire Chissà in Italia Magari mi stanno cercando La mia famiglia Chissà se magari Su TikTok Parlano di me Chissà cosa Cioè ti riposta Questa Ti riposto questa cosa Oppure Soprattutto a livello familiare Cioè dico I tuoi amici Cioè Esatto Era principalmente A livello familiare Era per il pensiero Dei miei genitori Infatti per questo Io avevo provato A chiamare mamma Il fatto di TikTok Instagram Cioè Di quello che si poteva creare A livello mediatico Non l'ho pensato minimamente Cioè io ho scoperto Tutta sta roba Mediatica Che si è creata Quando poi sono venuti A prendermi E Samuele Mi aveva detto Guarda che io ho fatto Sto TikTok esploso Tutta Italia Sta lanciando Sta notizia Io ho detto Che cazzo sta succedendo Che cazzo ho creato Cioè Che cazzo è successo Poi lì Dopo ho realizzato Che cosa ho creato Inconsapevolmente Però di base L'unico pensiero Che potevo avere Era rivolto Alla mia famiglia Esatto E la tua famiglia Adesso Cioè In che rapporti Sei con la tua famiglia Dopo tutta sta roba Che è successa Mi hanno appoggiato Però Tipo ad esempio Papà L'ha subita tanto Più di me Secondo me Cioè Anche lui ha avuto Un Trauma Si è assunto Si è preso Delle colpe Cioè Come se si fosse Preso delle colpe E come a dire È stata colpa mia Se è successo Tutto questo Però Quello è un classico Ma io ho 21 anni Cioè Loro non si avevano Fumabili Ogni genitore fa così Ogni genitore dice Perché mio figlio fa così Cosa ho sbagliato io Devo aver sbagliato Io vengo da una situazione Un po' particolare Dove Ho fatto tutto precocemente Ho fatto tutto prima Cioè Mi sono trasferito Sono andato via di casa A 18 anni Ho fatto tutto più velocemente Sono diventato Adulto Molto più in fretta E E papà Si è assunto Un po' sta colpa Come a dire L'ho lasciato andare Troppo presto Però Io La cosa Per cui ringrazio I miei genitori È proprio questa Cioè che mi hanno dato La libertà Sin da subito Poi ricordiamo Libertà L'ho avuta sempre A 18 anni Quindi Ero già libero Di scegliere E fare Quello che volevo Ma infatti Sai Una domanda Scusa Vai Poi devo chiederti Una cosa No Volevo sapere Ma mentre fumavi Non sentivi Che sto Magari Un sapore O un odore Strano Cioè che non era Quello di marijuana Ma Non sentivi una differenza Non sentivi niente No Non ho sentito Differenze Onestamente O almeno Non mi ricordo Di aver sentito Delle differenze Cioè Ero lì Preso dal momento Che stavo parlando Con lui Stavo fumando E volevo fumare Fine Ok Però Ricordiamo Che questa sostanza Qui Cioè se tu la guardi È erba Cioè È effettivamente Erba Perché va a prendere Proprio I principi attivi Dell'erba Solo che È erba Fatta in laboratorio Chiaro Jody No Dicevo Sempre riferito A A tuo papà Beh io In quei giorni Anch'io ho seguito Molto Diciamo Dall'esterno Questa storia Ero preoccupato E ne ho parlato Anche con Chiara Perché Anche lei Era super presa male Però una cosa Che mi aveva colpito Forse più di tutte Era quando Tu papà Ha fatto questo Videomessaggio Che è andato Virale insieme Al video di Samo Dove diceva All'inizio Una frase Che secondo me Poteva essere Determinante Cioè del tipo Non ti preoccupare È tutto ok E quello è tutto ok Però adesso che ne parliamo Effettivamente Si può ricondurre Proprio al In generale Quel senso di colpa Che Anche senza motivo Può provare un genitore Quando vede il proprio figlio Che magari Non sai Non sai Dov'è Cosa sta facendo Non sai Se magari È perché Ha un disagio Che non è riuscito A esternare Con la propria famiglia E quindi E quindi Effettivamente Unendo i puntini Dobbiamo ricordarci Anche un po' Tutti quanti Che se noi facciamo Delle azioni E magari Abbiamo paura Di esternarle Secondo me La nostra famiglia Dovrebbe essere Sempre partecipe Dei nostri disagi Perché almeno Non Tutto è chiaro Soprattutto Dobbiamo ricordarci Che chi ha una fortuna Di avere Una famiglia Che ci vuole bene È sicuramente Una risorsa preziosa Sempre Non si d'accordo Questo lo sto scoprendo Tanto ora Cioè mi sto Di nuovo Riavvicinando A valori Che avevo perso Perché mi ero allontanato Dalla mia famiglia Quindi avevo perso Dai 18 ai 21 Io avevo perso Per tutta la mia quotidianità L'affetto dei miei genitori Perché ovviamente Ero lontano da casa E in automatico Perdendo l'affetto Dei miei genitori Perdendo Un punto saldo Della mia vita Avevo automaticamente Perso anche dei valori E secondo me Questi episodi a New York Io adesso Questo qui Prendetele e buttatelo via Perché è soltanto Un mio pensiero Era un qualcosa Che mi doveva succedere Nella vita Per farmi ritornare Di nuovo a Salerno E farmi riprendere Di nuovo Tutti i valori Che realmente appartengono A me come persona Come Cosimo Corrado Perché io mi ero distaccato Dei miei valori Ero caduto in depressione Stavo lasciando Sempre più spazio Al mio personaggio E al mio lavoro Che alla mia persona E qui Bisogna fare per bene Delle distinzioni Perché Un conto è la vita privata Un conto è il lavoro Che si fa Va Va dosato bene Stavo inseguendo Troppo Un qualcosa Magari andando anche Contro i miei valori E mi stavo dimenticando Dei miei valori Certo Giotti posso farti una domanda Devo chiederti una cosa Riferita a quello Che hai detto prima Perché non sono aggiornato Sulle troiate partorite Della Z Generation Negli ultimi tempi Ma perché scusa Se uno non è per la monogamia È retrogrado Sì certo Ultimamente Sei proprio retrogrado Che non vuoi Che la tua ragazza Succhi altri cazzi Se veramente No Sì diciamo che No Ultimamente sì Cioè se sei monogamo Senti quelli che fanno Ah povero illuso Il futuro è poligamo È impossibile Che tu possa stare Possa andare a letto Solo con una persona Per il resto della tua vita Cosa così Non sono neanche così tante Ste persone per fortuna Che dicono ste robe No però urlano Urlano forte Però urlano forte Urlano forte esatto È quello È urlano forte Perché giustamente Loro possono avere La propria idea Ma io invece Che magari Ho un'idea un po' più Tradizionalista Non posso Perché se no Sono retrogrado È stupido Per me ognuno Può fare quel che vuole Però mi fa ridere Esatto Cazzo volevo chiederti Tu credi in Dio? Sì E in che modo È cambiata O si è evoluta La tua Il tuo credo Da prima Dopo questo Avvenimento Sto laggando Non so se sto laggando Io ho laggato Gran Forse ho sbiacitato Non ho laggato Nessuno dei due A meno che la tua Perfezione Non fosse diversa Da Andrea Oggi Ne stai spando La droga La merda La merda Brutta questa Senza Siete veramente Dei malati mentali Per la connessione Ma io sono bloccata Ah è vero Martina ha bloccato Come si è evoluta Come si è evoluto Il tuo credo Verso la religione Da prima Dopo questa esperienza Non è che si è evoluto Cioè io credo in Dio Non mi classifico In una religione Nello specifico Semplicemente perché Non ho mai studiato A fondo una religione Io credo in Dio Ma Dio Ma ti posso dire cristiano Perché cristiano Fa parte della cultura Però non mi posso Cristiano semplicemente Gesù La Madonna E Cristo Cioè Dio La Madonna E Cristo Quello sarebbe Il cristianesimo No 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 La Madonna Cristo E Dio Quello è il cristianesimo In breve Brevissimo Ma tu cazzo bestemmi Se proprio dobbiamo essere precisi Secondo me Dio Cristo E lo spirito santo Cioè la Madonna E la Madonna E la Ah grazie per il tuo operato Ma tu cazzo bestemmi No non bestemmi Non ho mai bestemmiato Ok Ma perché non mi piace Cioè È tipo una cosa sporca Per me bestemmia Non mi piace proprio Ok Martina bestemmia tanto Sì No Ho tutto detto Martina continua a Bederla Sì Sono bloccata Martina bestemmia No Sta contentando Martina Ma No perché Perché pensavo Ma Kazuki Ti dice che è tutto fake Cosa ti rispondi Su quello che mi è accaduto Tutto fake Cosa Cosa dice a uno che ti dice così E che è libero di pensare Quello che vuole Cioè Io qui sto raccontando La mia storia Poi se uno ci vuole credere Ci crede A me Non entra niente in tasca Se ci credi Non entra niente in tasca Se non ci credi Anche perché Aspettate ci tengo a precisare Una cosa L'unico che non ci ha marciato Su tutta questa storia Proprio a livello Pratico Di monetizzazione Sono io Cioè non ho mai caricato Beh però è vero Non ho mai fatto un video Sul suo canale Io non ho mai caricato Sul mio canale Se tu vai a vedere I miei canali Io ho due canali YouTube Uno è Kazusan Dove parlo ai bambini Uno è Cosimo Corrado Dove parlo un po' A un pubblico più generale Non l'ho mai fatto Direttamente sul mio canale Ma per scelta personale Al di là Della scelta economica Perché so Che sul canale Dove porto i videogiochi Parlo principalmente Ai bambini E secondo me È un po' brutto Cioè è difficile Affrontare un argomento Del genere Parlando ai bambini Quindi ho deciso Di farlo In un posto adeguato E ma io non ci ho guadagnato Niente su quella storia Non ci ho guadagnato In visibilità Cioè guadagnato in visibilità Che non è quantificato A livello monetario Però zio Immagino ti se avessi fatto Parlando di termini monetari Ti sto parlando di termini monetari Ma anche di visibilità La visibilità è stato un Come poter sfruttarla Molto meglio Se volessi voluto È stata una conseguenza Di quello che mi è successo Di quello che si è creato Cioè minchia Appena trovato Passava una settimana Che aveva l'hype alle stelle Faceva il video sul suo canale Ecco cosa mi è successo A New York Con lui così che racconta Con lui con questa faccia così Tipo Thumb name Di Youtube così Esatto Faceva mezzo milione di views Cioè Aveva l'hype alle stelle Ma anche Anche su Instagram Non ci ho proprio mai marciato Su sta cosa Perché il mio pensiero Proprio Da persona È stato È stata una cosa Che si è creata E che non l'ho voluta creare io Sono stato fortunato Che si è creata Perché si sono velocizzati Tutti i processi Perché Si sono impegnati di più Visto che dietro c'è stata Sta potenza mediatica Sono stato fortunato Così fine Cioè Perché devo cavalcare Una mia disgrazia Ne sto parlando ora Che sono passati due mesi Voglio togliere la curiosità Sono andato a parlarne A One More Time Podcast Perché per me è stato liberatorio Cioè io lì Ci sono andato in primis Perché mi dovevo liberare io Perché io mi stavo portando Un peso dietro le spalle Cioè Immaginate ogni giorno Ti ferma una persona per strada E ti dice Ma cosa è successo Cosa è successo E tu devi stare lì a raccontare E poi devi essere preciso Nel raccontarlo Perché Non è una storia Che racconti in un minuto Devi essere preciso E ci perdi dieci minuti Adesso se mi ferma uno E ti dico Vatti a vedere il podcast Ciao E così si risolve No ma io Sì ma comunque Io devo andare Devo andare anche io Ragazzuoli Quindi Vi ringrazio Tanto abbiamo finito adesso Però vabbè Ciao Andrea Grazie Vi mando un bacione Ciao Ciao Andrea Ciao Martina Ciao 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 Ciao